Dopo le numerose lamentele ricevute dai cittadini quartesi, sabato 28 novembre, l'Associazione Casa dei Diritti ha organizzato un sit-in pubblico in Piazza Santa Maria. La richiesta, rivolta al Sindaco e alla Giunta, riguarda la riorganizzazione del sistema pedonale con allargamento della carreggiata, per liberare il Viale Colombo da una strettoia inutile e dannosa al traffico cittadino. Tutti i cittadini incontrati si mostrano favorevi all'iniziativa e ritengono necessario il miglioramento della viabilità in questo tratto di Quartu ad alta tensità di traffico.